ciao a tutti amici giarine e giarini che ascoltate radio de giarrrrrrr oggi il vostro canarino pacuito che por l'occasion de carnevale di travestito vi declamerà una fila stroca vai maestro con la musica hola paquito come stas? io sono paquito un canarino molto bonito io sono paquito un canarino molto bonito io sono paquito io sono paquito un canarino molto bonito e sono molto luce come un chiquito e quando tu mi dici che te ho servito, te ho servito e io me perdono, io te perdono e ti mando un basso molto gradito, molto gradito perché io sono paquito, so paquito, so paquito e ma te faccio pur l'inchin ciao amici ciao 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 Grazie a tutti.